come gli uccelli. Friedrich Nietzsche, Aurora. Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. Tutti questi arditi uccelli che spiccano il volo nella lontananza, nell'estrema lontananza, di sicuro a un certo momento non potranno più andare oltre, e si appollaieranno su un pennone o su un piccolo scoglio, e per di più grati di questo miserevole ricetto. Ma chi sarebbe lecito trarne la conseguenza che non c'è più dinanzi a loro nessuna immensa libera via che sono volati tanto lontano quanto è possibile volare? Tutti i nostri grandi maestri e precursori hanno finito con l'arrestarsi, e non è il gesto più nobile e il più leggiadro atteggiamento quello con cui la stanchezza si arresta. Sarà così anche per me e per te. Ma che importa a me e a te? Altri uccelli voleranno oltre. Questo nostro sapere e questa nostra fiducia spiccano il volo con essi, e si librano in alto, salgono a picco sul nostro capo e oltre la sua impotenza, lassù in alto, e di là guardano nella lontananza, vedono stormi d'uccelli molto più possenti di quanto siamo noi, i quali agogneranno quel che agogniamo noi, in quella direzione dove tutto è ancora mare, mare, mare. E dove dunque vogliamo arrivare? Al di là del mare? Dove ci trascina questa possente avidità che è più forte di qualsiasi altro desiderio? Perché proprio in quella direzione, laggiù dove sono fino ad oggi tramontati tutti i soli dell'umanità, un giorno si dirà forse di noi che volgendo la prua occidente anche noi speravamo di raggiungere l'India, ma che fu il nostro destino a naufragare nell'infinito? Oppure, fratelli miei, oppure?